Sono stati ultimati con un giorno di anticipo rispetto a quanto preventivato dal Comune i lavori di asfaltatura di via De Genè e Imperia. La strada, che avrebbe dovuto restare chiusa fino a questa sera, è infatti potuto essere riaperta al traffico già ieri pomeriggio. In un secondo momento verrà realizzata la segnaletica orizzontale lungo la stessa via. Lunedì e anche ieri, in concomitanza con l'avvio e la prosecuzione del cantiere, si erano formate code in diverse vie principali di Oneglia e come sempre in questi casi non sono mancate le polemiche per la scelta della tempistica dell'asfaltatura. L'assessore ai lavori pubblici Esther D'Agostino aveva però evidenziato come fosse stato necessario attendere la chiusura delle scuole per aprire il cantiere proprio al fine di evitare disagi maggiori ai cittadini. In ogni caso ora la strada è riaperta e i problemi di traffico, se ci sono, sono quelli di sempre. Entro breve dovrebbero partire altri interventi che riguardano la sistemazione di Piazza Dante via Bonfante a Oneglia e di Galleria Gastaldi a Porto Maurizio.